Provvedimento di sequestro preventivo per oltre un milione di euro, quello eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale per i reati, tra l'altro, di falsità in testamento olografo, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro e ricettazione. A coordinare le indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Grazie alle indagini condotte dal Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, è stato scoperto e disarticolato un sistema fraudolento ai danni degli eredi di un'anziana signora catanese defunta nel 2015. A seguito della denuncia presentata dagli eredi hanno avuto il via le indagini che hanno consentito di accertare come, a distanza di quasi un anno dal decesso della signora, fosse stato fatto redigere un falso testamento dal quale risultava che l'anziana signora avesse nominato erede universale una persona estranea alla cerchia familiare che le sarebbe stata vicina negli ultimi anni della sua vita. Sono stati poi ricostruiti i flussi finanziari relativi alle operazioni di gestione dell'ingente patrimonio della donna defunta da parte della falsa erede nominata e di altri quattro, tutti familiari di quest'ultima. In virtù del testamento redatto, l'erede nominata sarebbe entrata illecitamente in possesso delle somme di denaro depositate presso conti correnti accesi, presso istituti di credito catanesi, della polizza vita, di quattro beni immobili nel centro di Catania e di preziosi appartenenti all'anziana signora per un valore complessivo di 800 mila euro. Dopo aver acquisito il patrimonio, la falsa erede e i suoi familiari avrebbero compiuto operazioni di riciclaggio dei beni al fine di occultarne l'origine illecita, in quanto indebitamente acquisite a seguito della redazione del falso testamento, acquistando in particolare due immobili a Catania, lingotti e sterline d'oro e compiendo operazioni bancarie al fine di trasferire su più conti il patrimonio mobiliare della signora defunta. A seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte dal nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania, sono stati denunciati cinque soggetti, come detto la falsa erede e quattro suoi familiari, per falso riciclaggio e autoriciclaggio, reimpiego e ricettazione. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro di disponibilità finanziarie su conti correnti intestati ai soggetti coinvolti nell'attività illecita, oltre che di due immobili per un valore complessivo di circa un milione di euro.